In questo momento sinceramente cerco di vedere, di capire, perché onestamente non so cosa possono dare i ragazzi al 100%, con tre partite una settimana, tutte cose nuove per me, che mi aiutano e mi insegnano delle cose. Devo solo al momento essere molto contento, perché non solo abbiamo fatto due partite in tre giorni, ma le abbiamo fatte con gli stessi calciatori, dunque sono molto felice che al 95esimo di Foggia ancora erano abbastanza lucidi per giocare. Quanta lucidità servirà, ritornando in campo domenica, contro la Casertana, che arriva da un risultato importante, proprio mercoledì? La Casertana è una squadra che gioca bene, che fa le cose a memoria, molto difficile da affrontare. Noi in questo momento, dal punto di vista generale, siamo molto più indietro. Quello che ci crea qualche problema, ripeto, è il fatto che dobbiamo giocare un po' con gli stessi giocatori e la terza partita nei sette giorni, nei otto giorni, sicuramente dal punto di vista della lucidità qualcosa perderemo. Dovremmo buttare il cuore oltre l'ostacolo e fare il risultato a tutti i costi. Ripeto, poi nel calcio tutto può succedere, ma quello che vorrei è che alla fine della partita, come sarò stanco io, sarò stanco i ragazzi, aver dato tutto, poi vedremo quello che arriverà. Mister, è riuscito a mantenere dietro il Potenza e la Paganese? Era quantomeno l'obiettivo minimo che si era prefissato questo miniciclo? No, ma non faccio minicicli. Io sono arrivato 15 giorni fa a 13 partite della fine, ora ne mancano 10, il tempo è veramente pochissimo. Dunque, ripeto, cerchiamo di partita in partita di fare il massimo, non si sta a guardare chi è dietro e chi è davanti, perché poi è l'ultima partita, l'ultimo secondo, è l'ultima partita che conta. Sappiamo che probabilmente siamo 5 squadre per 4 posti che dovranno fare i play-out, dunque la lotta veramente, diciamo che tutti alla pari, può succedere di tutto, tutti dobbiamo incontrare le grandi e le medie e le squadre di bassa classifica, sconti diretti. Dunque, una partita per volta, la cosa che mi premi di più è cercare di dare la mia impronta nel più breve tempo possibile, in modo che la squadra arrivi in fondo così conscia delle proprie possibilità, con fiducia, che sappia fare le cose. A quel punto, secondo me, ce la potremo giocare con tutti.